Parte integrante del pacchetto Sport Crono disponibile su richiesta è il sistema supporti motore attivi. In base alle condizioni di marcia si modificano la rigidità e lo smorzamento dei supporti del motore, riducendo sensibilmente le oscillazioni e le vibrazioni dell'intera catena di trasmissione, in particolare del motore. La conseguenza, trazione più elevata, maggiore stabilità di marcia nelle curve percorse a velocità sostenuta e in fase di accelerazione e maggiore piacere di guida, naturalmente.